Nuovi libri per le biblioteche scolastiche di Carmignano, non testi di favole o romanzi per ragazzi, ma volumi che spiegano che cos'è la mafia. La richiesta all'amministrazione è stata fatta dalle insegnanti durante l'incontro lo scorso gernaio organizzato dal presidio di Libera Valle Iato su Giuseppe Di Matteo, realizzato nell'ambito del progetto sulla legalità, nato tre anni fa. Si parla di tutti gli argomenti che riguardano l'essere dei cittadini onesti e in particolar modo si affronta il tema della mafia, un po' perché è sentito da noi, un po' perché si pensa che comunque la mafia nasce anche a scuola dal bullismo e quindi educare i bambini a riconoscere gli atti di bullismo e a non essere omertosi ma a denunciarli e a non compierli, ovviamente c'è un insegnamento importante per la vita. A distanza di qualche mese i libri sono arrivati e la prima consegna è stata fatta alla scuola primaria Nazario Sauro a Seano. Va da libri per l'infanzia, quindi molte immagini su quello che noi dobbiamo fare nella vita e quello che non dobbiamo fare, fino a libri un pochino più impegnati per le scuole elementari e medie, sulla storia di Giovanni Falcone per esempio, cose di Cosa Nostra o per questo mi chiamo Giovanni.